La Juventus chiuderà un affare insolito con un giocatore della Roma? È un grande piacere incontrarti di nuovo, tifoso della Juventus. Commenta qui sotto da dove ci stai guardando e, se puoi, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche. Leonardo Spinazzola è stato uno dei pezzi fondamentali della nazionale italiana che ha vinto l'Euro 2020. Ha avuto una lunga esperienza alla Juventus, arrivando nel 2010 e partendo nel 2019 per unirsi alla Roma. Alla Juventus, Leonardo Spinazzola è stato prestato diverse volte, poiché il club all'epoca non lo considerava pronto. Tuttavia, è un fatto che Spinazzola si sia sviluppato molto negli ultimi anni alla Roma. Tuttavia, la sua situazione attuale alla Roma è incerta, con solo un altro anno di contratto, la Roma sta lottando per garantirgli un nuovo contratto, ma Spinazzola non sembra interessato a prolungare il suo soggiorno nel club. Ci sono informazioni che la dirigenza della Roma avrebbe Giagio Mario del Porto come sostituto di Spinazzola. La Roma rischia di perdere Spinazzola, e la Juventus è molto interessata al terzino italiano, considerando che è davvero pronto. Di conseguenza, nella prossima finestra di trasferimento, Leonardo Spinazzola potrebbe tornare alla Juventus. Leonardo Spinazzola di nuovo alla Juventus? Sarà un buon affare? Quali sono le vostre conclusioni?